Buongiorno a tutti intanto mi corre informarvi che io parlo a nome della responsabile scientifica la professoressa Margherita Zari dell'Università di Firenze nel Dipartimento SAGAS e del Laboratorio di Geografia. Il progetto che va sotto il nome di Chimera che abbiamo sviluppato e che è tuttora in arricchimento si basa sull'identificazione di obiettivi che hanno per come vedete dalla slide lo scopo di cercare di ricontestualizzare la documentazione disponibile relativamente al patrimonio culturale regionale nel tentativo appunto di restituire una rappresentazione più complessa articolata e concettualmente ricondotta all'unità soprattutto quella contenuta nei musei. archeologici della Toscana. Valorizzare quindi e promuovere l'eredità culturale soprattutto attraverso questo strumento cercare di ricomporre appunto come dicevo prima questi panorami storici di lunga origine, di lunga profondità, di grande profondità nel tentativo appunto di restituire la profondità del patrimonio culturale stesso soprattutto quello che riguarda quello contenuto nei musei quindi ricomporre ad unitarietà il paesaggio toscano con ciò che sul paesaggio abbiamo difficoltà a vedere perché musealizzato oppure perché in archivio. Tutto ciò appunto si traduce nel tentativo di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale toscano, lo sviluppo locale della sostenibilità e durevolezza e da questo punto di vista direi che una forma di partenariato che ha coinvolto diverse realtà tra tutte queste il binomio direi più strategicamente rilevante è stato quello che l'Università di Firenze ha intrattenuto con l'Associazione dei Musei Archeologici Toscani che rappresento in quanto presidente. Perché? Perché questo ha dato modo di intervenire, di aiutare sia nello sviluppo di attività di raccolta e organizzazione dei dati ma soprattutto anche della restituzione al pubblico del patrimonio conservato nei nostri musei. Amat, due parole, cos'è? È un'associazione di musei archeologici appunto relativi alla nostra regione ma musei soprattutto di ente locale che come sappiamo tutti sono quelli in maggiore sofferenza. Un progetto di questo tipo si pone anche in questa strategia di intervento cioè aiutare la attività di educazione del cittadino, sviluppare conoscenza anche in chi visita la nostra regione e in questo modo aiutare i musei e di enti locali a svolgere nel modo più efficace la propria funzione educatrice. Quali sono i metodi che abbiamo utilizzato per raggiungere questi scopi? La creazione di un archivio informatizzato che è già disponibile sul web nel quale sono confluite tutte le informazioni dalle quali poi si ottiene la interfaccia che è rivolta appunto all'utilizzatore. All'interno di questo archivio digitale sono confluiti documenti di diverso genere naturalmente fotografici, archivistici, cartografici ma anche elaborazioni di tipo tridimensionale, mappe interrogabili, gallerie fotografiche, virtual tour appositamente costruiti per i musei aderenti al progetto che non hanno disponibilità e come secondo metodo di diffusione questa volta dei risultati l'organizzazione di eventi di valorizzazione e di promozione del patrimonio paesaggistico per le cui organizzazioni alcuni partner in particolare si sono rivelati diciamo fondamentali. I partner del progetto sono come vedete intanto gli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali, Ministero della Cultura oggi, quindi le soprintendenze che detengono naturalmente tutti gli obblighi di tutela nei confronti di oggetti e riproduzione degli stessi, il laboratorio di geografia applicata appunto dell'Università di Firenze, l'associazione culturale On the Move di Cortona per ciò che riguarda la diffusione degli eventi organizzati contestualmente al progetto e poi alcuni dei musei dell'associazione AMAT che hanno partecipato fino a qui ma già da questo momento vi posso dire che il numero dei soci AMAT sta proliferando perché via via che i risultati vengono fuori naturalmente i nostri musei approfittano dell'occasione, questo sul versante come si dice della diffusione del progetto e la, come posso dire, implementazione dei risultati è naturalmente un punto estremamente positivo. Ora per quello che riguarda i nostri risultati e le elaborazioni effettuate passerei la parola a Poline De Ghi che è l'assegnista che ha portato a termine appunto la costruzione di questi elaborati. Prego Poline. Allora buongiorno a tutti, quindi io vi farò vedere un po' diciamo i risultati in questo momento ecco perché è un progetto che cerchiamo comunque di portare avanti e quindi aggiungendo contenuti e contenuti sia su contenuti innovativi sia anche pubblicizzazione di eventi che hanno l'obiettivo di valorizzare l'eredità culturale del paesaggio toscano. Quindi come dicevamo prima c'è stato quindi la creazione di un portale web, un archivio digitale e questo portale web soprattutto è stato anche all'interno del quale sono stati inseriti contenuti innovativi tra cui modelli 3D, mappa interrogative, abbiamo anche inserito la possibilità che questa è una novità perché si sta sempre envolvendo il sito, quindi abbiamo anche inserito la possibilità di inserire dati GIS, virtual tour e ricostruzione 3D del paesaggio del passato. Il tutto messo insieme attraverso degli itinerari tematici, questo vi faccio vedere poi magari guardiamo il sito che si capisce molto meglio. Quindi questo è un esempio del virtual tour del museo di Artimino, c'era prima la direttrice che però ha dovuto andare, quindi che facciamo? Faccio vedere in tempo dopo, infatti quindi insomma quindi un esempio del virtual tour, poi ci sono anche quindi come dicevo prima ci sono stati delle ricostruzioni 3D del paesaggio, questo è il caso di Fuscecchio, è solo una foto a 360 gradi, quindi se uno va sul sito di Chimera può quindi guardare intorno a 360 gradi, questo è un'immagine della ricostruzione della ricostruzione del paesaggio, cioè è solo un pezzetto diciamo del di questa ricostruzione. Poi ci sono stati anche dei modelli dei modelli 3D realizzati che sono navigabili e si possono anche vedere tramite la virtual, non mi viene la parola, con gli occhiali virtuali insomma, esatto grazie. Questo è il modello 3D del castello di Avenza che non so se lo conoscete, ora rimane solo un pezzetto dell'attore di destra che vedete, quindi c'è stato anche tutto un lavoro di ricerca, documenti storici per riprodurre questi materiali. Abbiamo inserito all'interno sempre del progetto, all'interno degli itinerari, di vari itinerari del progetto, anche dei video, oltre che riprendono appunto queste ricostruzioni che sono state create e servono anche da per capire anche la storia del del paesaggio. Ci sono commentata giusta questo? Ok, poi un altro aspetto quindi che quello ha riguardato più il primo anno del progetto, perché appunto avendo anche avuto anche noi il problema del covid, anche noi abbiamo dovuto ripensare un pochettino gli obiettivi e la metodologia del progetto, cioè la metodologia non tanto ma più lo sviluppo del progetto e l'archivio digitale è stato popolato soprattutto durante il primo anno che io ho svolto l'attività soprattutto alla soprintendenza di Firenze a creare le schede che poi sono state inserite all'interno dell'archivio digitale. Quindi per fortuna mi hanno dato la possibilità di andare una volta, due volte alla settimana a insomma fare il punto con la gente che seguiva il progetto alla soprintendenza. Questo archivio non lo faremo vedere oggi anche perché in realtà ci vuole password, cioè insomma ogni ente ha il suo accesso quindi è una cosa un po' privata tra parentesi, però poi questo archivio viene riportato, questo archivio tutti elementi che vi ho fatto vedere prima quindi video, modelli 3D, ricostruzione 3D del paesaggio e tutto quanto viene poi messo accessibile a tutti attraverso il portale web. Quindi qui avete un paio di screenshot, quindi a sinistra è la home page con la presentazione del progetto, i partner, insomma un po' un riassunto di quello che si trova poi all'interno del portale, ci sono anche percorsi tematici, abbiamo creato i percorsi tematici in funzione anche dei musei che sono stati... Prego. Aggiungo qualcosa, la difficoltà del progetto è stata soprattutto quella di mettere in relazione musei con caratteristiche diverse per le quali era necessario naturalmente ricondurre o individuare temi che potessero essere condivisi da musei di diverso tipo ma soprattutto di diverso contenuto per cui inizialmente è stato deciso di individuare come tema comune le origini dei singoli centri storici nei quali i musei insistono. Naturalmente da questi è possibile poi attraverso la cartografia con il posizionamento dei singoli elementi per chiunque acceda al sito di individuare dei percorsi tematici, quindi costruire dei percorsi di visita, poco fa si parlava quando questi sistemi possono essere utilizzati se sul posto oppure in precedenza oppure successivamente alla visita, questo è uno strumento con il quale si riescono a costruire itinerari di visita puntati su temi specifici. Naturalmente noi ne abbiamo scelto uno per i motivi che vi ho detto ma naturalmente il progetto non finisce qui ma continua ad arricchirsi naturalmente anche dal punto di vista delle tematiche. Il tutto è chiaramente legato all'archivio digitale tramite la ricerca avanzata, poi ogni scheda caricata dai musei, poi è ovviamente in relazione al percorso tematico in funzione della tematica scelta. Un esempio veloce di eventi che sono stati realizzati, quello completamente durante il covid è stato difficile, l'unico modo. Abbiamo, cioè abbiamo, siamo riusciti a organizzare a un evento soprattutto grazie all'associazione culturale Cortona On The Move che non so se conoscete ma organizza tutti gli anni un evento fotografico quindi loro sono molto forte su questo punto di vista e quindi abbiamo pensato di organizzare con le scuole primarie e secondarie della regione toscana, faccio veloce, un concorso fotografico nel quale i allievi dovevano creare, cioè fare uno scatto dalla loro finestra quindi rimanendo a casa sapendo che era l'unica cosa che si poteva fare però è stata una cosa molto carina, cioè abbiamo, cioè i ragazzi si sono divertiti anche, era anche un modo per non fare qualcosa però anche per i maestri è stato un modo per continuare le attività anche di gruppo eppure essendo a casa, insomma è stato molto carino, poi abbiamo, appena abbiamo potuto, abbiamo fatto anche un'attività geocaching per la scuola vincitrice, cioè la classe vincitrice della scuola primaria, lo trovate anche qui sul sito di Chimera c'è proprio una parte eventi e con i risultati di questo evento.